Salve a tutti gli amici di TechDifferent, ben ritrovati, iniziamo l'anno con due unboxing cortesia di Coetec. Abbiamo due Fast Wireless Charger, in pratica uno si metterà sull'auto come vediamo nell'immagine dietro la confezione, quindi decisamente molto pratico per chi viaggia molto soprattutto e l'altro è classico casalingo. Andiamo ora a fare l'unboxing di entrambi gli accessori. Bene, allora partiamo subito da quello più conosciuto, diciamo, quello da casa. Apriamo la confezione, abbiamo all'interno della confezione il manuale di utilizzo con un codice QR per andare a scannerizzare un po' le informazioni, vediamo che è scritto anche in cinese, logicamente l'azienda è cinese, comunque vediamo che abbiamo la possibilità di ricaricare ben due smartphone in contemporanea su questa piattaforma. Questo è un simpatico tagliandino che invita magari a diventare un membro VIP, registrare il prodotto per la garanzia di 18 mesi, non è 24, però è già qualcosa. Andiamo poi ad aprire, a togliere il caricatore in sé che non ha altro che ovviamente, eccolo qua, è in gomma, logicamente qua sopra, qua sotto abbiamo quattro gommini in gomma con delle fessure per il raffreddamento, ci saranno le ventole e questo è il certificato, eccolo qua, con la ricarica, con tutti i parametri. Qui abbiamo l'ingresso USB di tipo C che non so se si vede in controluce, eccolo qua, USB di tipo C per ricaricare velocemente ovviamente i prodotti che andremo ad apporre su di esso, abbiamo qui ovvio il cavo USB normale, USB di tipo C che va inserito nella basetta. Andiamo ora a fare l'unboxing, mentre sposto tutto, di questo accessorio, accessorio che andrà messo in automobile, logicamente, eccolo qua. All'interno anche qua abbiamo i due tagliandini che vi ho fatto vedere in precedenza. Allora, qui abbiamo la clipettina che va apposta dietro, che permetterà dunque di orientare il dispositivo. Questo a quanto pare è per bloccare il tutto. Poi abbiamo due molle all'estremità, vedete che possiamo in base alla larghezza del dispositivo. Non è tanto largo sui due lati, quindi ci stanno misure di smartphone che poi vi indicherò nella recensione completa. Abbiamo il cavo di ricarica, micro USB e USB normale. L'ingresso micro USB è posto qua sotto, quindi un'autonomia anche da viaggio. Direi che per questo unboxing molto rapido, veloce, anche spartano se volete, è terminata. Vi ringraziamo per la cortesa attenzione e vi rimandiamo ovviamente ai prossimi video, nonché a seguirci sul nostro sito, il nostro canale YouTube, i nostri social network e vedrete nel giro di qualche giorno la recensione completa di questi due dispositivi.